Sul progetto di istituzione della Regione Salento, che unisca le tre province di Brindisi, Lecce e Taranto, i sindaci del territorio da noi interpellati si sono dichiarati in larga maggioranza favorevoli. Altri sono perplessi, altri ancora contrari. E tuttavia anche chi non condivide l'idea ritiene giusto che siano i cittadini delle tre province ad esprimersi e che quindi si vada al referendum, come è negli obiettivi del Comitato Promotore della Regione Salento. E questa è anche la posizione del dottor Cosimo Borraccino, segretario regionale dei Comunisti Sinistra Popolare e già consigliere regionale pugliese, che abbiamo ai nostri microfoni. Ho avuto modo già, anche attraverso questa emittente televisiva, di dire e dimostrare tutta la mia contrarietà rispetto a questo progetto dell'istituzione della Regione Salento. Io comprendo le ragioni del campanile, ma per me prevalgono e per il movimento politico di cui io rappresento a livello regionale la valenza politica, prevalgono le ragioni dei cittadini. Io mi chiedo e chiedo a tutti quanti, nel caso dell'istituzione della Regione Salento, depotenziando quello che è il tessuto produttivo, il tessuto politico, il tessuto di immagine, di aspettative che sia della Regione Puglia all'esterno del nostro confine regionale, se i cittadini di Taranto, Brindisi e Lecce avranno una maggiore vivibilità, avranno maggiori occasioni di sviluppo, avranno una maggiore ricchezza individuale o meno. Io penso che oggettivamente, staccandoci dalla Puglia, da quello che rappresenta la Puglia da qualche anno a questa parte, un cantiere eccezionale di risorse innovative, di aspettative, di miglioramento, di flussi turistici che ci pongono al vertice a livello nazionale, io penso che i nostri concittadini avranno minori possibilità, minori aspettative di benessere diffuso. Per questo motivo io ritengo non attuabile questa iniziativa. Rispetto poi all'idea del referendum che il Comitato Costituendo sta portando avanti, io lo ritengo un aspetto importante, perché è necessario su qualsiasi iniziativa a largo raggio che coinvolge i cittadini non far esercitare soltanto il ruolo dei partiti, che per Giunta è anche molto importante, ma in questo caso è necessario far esprimere i cittadini, la volontà degli elettori, la volontà degli abitanti di Taranto, di Brindisi e Lecce. Vedendola da un altro punto di vista, l'unione fra le tre province non può essere produttiva? La ritengo di no, perché ogni provincia ha le sue peculiarità. C'è un protocollo d'intesa siglato già negli anni scorsi fra i presidenti di Brindisi, Lecce e Taranto per, ad esempio, sulle infrastrutture, sulle macro-opere pubbliche, andare insieme, viaggiare insieme. Penso ad esempio alla rete viaria, penso ad esempio alle infrastrutture per quanto riguarda l'aeroporto, i porti, i porti turistici e questo è un aspetto importante, ma non si può pensare di mettere insieme tre province e creare un'unica sola provincia di 1.800.000 abitanti, così come, dal mio punto di vista, ribadisco, non è pensabile di scorporare una regione che ha oltre 4 milioni di abitanti e che ha il vertice a livello meridionale e che ci fa essere ai vertici su tante decisioni anche a livello nazionale per dividerla in due e per, come dice un vecchio detto, quando dividi la ricchezza poi diventa povertà.